Sono 7.722 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia, quasi la metà rispetto a ieri, 110 i nuovi casi positivi in regione, di cui 8 debolmente positivi e 3 a seguito di test sierologico, 10 in provincia di Como, nessuno a Lodi, Mantua e Sondrio. Preoccupa ancora Milano, con 53 contagiati in più, 31 in città, 27 i dimessi guariti in più, 75.705 dall'inizio della pandemia, che ad oggi, con un nuovo decesso, ha causato la morte di 16.857 persone. Nelle strutture sanitarie sono 15, uno in più, i malati in terapia intensiva, mentre altre 5 persone sono state ricoverate in reparto, dove si trovano 153 pazienti. Alta l'attenzione sull'aumento dei contagi in Lombardia, la Regione ricorda che l'incremento dei casi positivi lombardi va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati, senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a un sesto della popolazione nazionale.